Musica A Marsala i carabinieri arrestano due persone, suo ordine dell'autorità giudiziaria. Rinvenuti 30 kg di pesce non tracciata a Trapani, multe e sequestro. Agricoltura 33 milioni ai gall. Netto calo del numero dei positivi in provincia di Trapani al Covid-19. Nuova edizione delle TG8 Informazione, ben ritrovati sul canale 190 del Digitale Terrestre e in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. A Marsala i carabinieri hanno arrestato due soggetti in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della compagnia di Marsala nei giorni scorsi hanno arrestato due persone in esecuzione di altrettanti provvedimenti restrittivi, entrambi per reati contro la persona. In particolare a Petrosino i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 68enne del posto in ottemperanza all'ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala. L'uomo, ritenuto responsabile di avere partecipato ad una rissa nel 2013 a Petrosino, dovrà espiare la pena di cinque mesi di reclusione domiciliare. I carabinieri della stazione di Marsala invece hanno eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un 49enne. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani per espiare la pena di due anni e otto mesi di reclusione a conclusione dell'iter processuale in cui è stato condannato per il reato di maltrattamento in famiglia commesso nel 2018. Nel corso delle fine settimane appena concluso, i carabinieri della motovedetta Pignatelli di Trapani hanno eseguito una mirata attività di polizia marittima a terra volta al contrasto dell'illegalità nel settore della pesca e alla tutela della salute dei cittadini. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno sanzionato un trapanese di 27 anni che all'atto del controllo deteneva all'interno di una cella frigo 30 kg di prodotti ittici sprovvisti dalle informazioni minime obbligatorie né violazione dalla normativa sulla tracciabilità come confermato anche dal personale dell'Asp. Per tale motivo l'intero quantitativo di merce è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca e poi alla distruzione non essendo idoneo al consumo mentre per l'uomo è stata prevista una sanzione di 1.500 euro. Come abbiamo detto nei titoli, migliorano o meglio in netto calo il numero dei positivi in provincia di Trapani. Nell'ultimo bollettino diramato dall'ufficio stampa dell'Asp di ieri, lunedì 4 aprile si è notato un forte decremento dei positivi che sono passati dagli 11.083 di sabato agli 8.815 quindi meno 2.268 il che fa bene sperare davvero con l'arrivo della bella stagione che si possa tornare alla piena normalità. E andiamo avanti con il Tg in agricoltura 33 milioni saranno dati ai Gall la ripartizione sarà basata sulle performance dei singoli gruppi. Il governo musumeci continua a dare linfa ai territori rurali con circa 33 milioni di euro ripartiti tra i Gall siciliani. Si tratta delle risorse aggiuntive assegnate alla misura 19 del programma di sviluppo rurale della Sicilia grazie alla proroga delle attività per le annualità 2021 e 2022. Lo dichiara l'assessore regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale della pesca mediterranea Tony Scilla Abbiamo voluto ripartire le risorse tenendo conto di alcuni criteri che valorizzano il lavoro svolto da ogni singolo Gall spiega l'assessore regionale infatti solo una piccola parte pari a circa il 20% è stata distribuita con i criteri storici del 2016 mentre la metà delle risorse ha tenuto conto della performance di ogni singolo Gall basata sulle graduatorie approvate sugli impegni emessi e sulla spesa pubblica erogata. L'ulteriore quota pari al 20% circa è stata assegnata a 10 progetti ritenuti di grande qualità per gli aspetti legati all'innovazione e alle ricadute sui territori di attuazione. Il trapanese Giuseppe Casabella è stato confermato segretario territoriale Filbi Will Trapani in occasione del XII congresso di categoria che si è svolto a Mazzara. La Filbi è la Federazione Italiana Lavoratori Bonifiche e Regazione ovvero il sindacato di settore della UILA che organizza i dipendenti delle consorsi di bonifica e di miglioramento fondiario. Ai lavori del congresso ha preso parte tra gli altri il segretario generale UILA Trapani Tommaso Magaddino. Sono stati eletti a far parte del consiglio territoriale Filbi anche Luca Lampasona Giancarla Patti Vincenzo Bono Antonello Parrinello Francesco Farina Antonio Fontana Michele Giacalone Gaspare Di Maria e Lorenzo Calamia. Una notizia che ci giunge da Pantelleria la Capitaneria di Porto guidata dal Tente di Vascello Antonio Terrone con il patrocinio del Comune di Pantelleria assessorato all'ambiente organizzano la pulizia straordinaria dei fondali marini. La Capitaneria di Porto di Pantelleria con il patrocinio del Comune di Pantelleria assessorato all'ambiente del Parco Nazionale Isola di Pantelleria di Marevivo delle associazioni di diving e pescatori panteschi ha organizzato per giovedì 8 aprile alle 15.30 al porto di Scauri una pulizia straordinaria dei fondali marini. L'occasione per l'evento è data dalla giornata della cultura marinara nell'ambito della quale ci sarà anche un intervento di educazione ambientale a cura del biologo di Marevivo Andrea Biddittu. Un'iniziativa importante per un'isola che prosegue il percorso di tutela e sensibilizzazione legato a coste e mare che vede ancora una volta le istituzioni e le associazioni locali unite allo stesso scopo. Un'occasione per scoprire il mare e i suoi tesori ma soprattutto per prendere consapevolezza di come l'uomo sta minando gli habitat marini che hanno bisogno ormai impellentemente di tutela e protezione. Sono invitati a partecipare studenti e cittadini panteschi insieme alle autorità locali e civili. Spostiamoci a Mazzaro del Vallo dove continuano gli incontri sulla legalità all'istituto Ruggero d'Altavilla organizzati dall'avvocato Nino Alabbiso nella qualità di presidente della Camera Civile di Marsala Pietro Calamandrei. Oggi l'istituto ha avuto l'onore di ricevere la dottoressa Mary Carmisciano giudice del Tribunale di Marsala per indurre gli studenti a riflettere sulle tematiche della sopraffazione dei soggetti più deboli. Tra gli argomenti trattati l'articolo 3 della Costituzione italiana per intavolare una riflessione approfondita sulle figure deboli. Gli alunni si sono mostrati sensibili alla tematica e hanno partecipato attivamente ponendo alla dottoressa Carmisciano diverse domande. Hanno contestualizzato il tema dell'incontro identificando i profughi ucraini come soggetti deboli ma soprattutto il tema del bullismo sul quale i ragazzi hanno mostrato di avere ancora tanti dubbi da chiarire e la voglia di mettere in atto comportamenti adeguati. Il prossimo ed ultimo incontro sull'argomento il lavoro diritto e dovere di ogni cittadino sarà tenuto dal dottor Francesco Giardina giudice del Tribunale di Marsala il prossimo 10 maggio. Restato concesso spostiamoci a Marsala in Comodato d'Usa l'associazione Gesci gruppo scout di Marsala la sede comunale di Villa Gaia in via Giulio Anca Omodei e quanto ha deliberato la giunta municipale sulla scorta di un'apposita visita pubblico che risale al 2017 e la cui procedura non era mai stata ultimata. Si completa finalmente l'assegnazione dell'immobile comunale ha sottolineato il sindaco Massimo Grillo seppure in ritardo perché abbiamo dovuto ricondurre il tutto alle norme statutarie e regolamenti attuando la corretta procedura che deve guidare ogni concessione di locali comunali esprimo soddisfazione per questo risultato che consentirà di poter valorizzare questo immobile e far rivivere anche l'area circostante grazie a un gruppo scout motivato cui va il mio apprezzamento. E domenica scorsa prima domenica del mese è ritornato la possibilità di poter visitare musei e aree archeologiche in maniera gratuita tantissimi i visitatori in Sicilia. La prima domenica del mese a ingresso gratuito nei parchi archeologici e nei musei regionali della Sicilia fa registrare tantissimi visitatori con numeri in certi casi equiparabili o superiori a quelli del 2019 cioè prima della pandemia anno in cui la Sicilia aveva fatto registrare un vero e proprio boom di presenze quasi 24.000 gli ingressi registrati domenica 3 aprile nei luoghi della cultura apripista la Valle dei Templi con 4.751 visitatori seguita dalla Neapolis di Siracusa con 2.736 ingressi e dal Teatro Antico di Taormina con 2.586 presenze registrate presenze che in alcuni siti sono andate ben oltre i lusingieri risultati del 2019 è il caso a titolo esemplificativo del Parco archeologico di Segesta dove ad esempio a fronte di 894 presenze del 2019 quest'anno ne sono state registrate 942 o a Palermo con numeri record alla Galleria regionale di Palazzo Abatellis Palazzo Mirto e al Museo archeologico Antonino Salinas moltissime le persone che hanno visitato il Palazzo della Zisa a Palermo e ancora al Castello Magnace di Siracusa dove si è passati dai 284 visitatori del 2019 ai 625 di quest'anno e al Museo di Naxos con uno straordinario incremento da 191 a 417 visitatori a proposito di aree archeologiche quella della chiesa di Santa Maria della Grotta nel pieno centro urbano di Marsala diecento allo stadio comunale versa da anni in condizioni di degrado e abbandono nonostante ripetute iniziative culturali l'ultima dei quali è stata quella della Via dei Tesori oggi a sfregiare il patrimonio culturale della città non sono solo le erbacce segni del tempo ma anche l'abbandono di rifiuti di ogni genere a denunciarlo è il circolo lillibetano berlinguer e l'amministrazione comunale di Partan ha organizzato la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri dal titolo Le Siciliane l'appuntamento è per venerdì 8 aprile alle ore 18 alle scuderie del Castello Grifeo con la partecipazione degli alunni di alcuni istituti porteranno i saluti il sindaco Nicolò Catani e l'assessore alla cultura Noemi Maggio la presentazione del libro sarà arricchita dalle letture curate da Ignazio Enrico Marchese e dalle performance musicali di Giuseppe Clemente e Francesco Critti e rimaniamo nella Valle del Belice Fabrizio Ferracane Castelvetranese in Lizza per miglior attore non protagonista Ai David l'attore in gara per Ariaferma e altri due film ieri sono state annunciate tutte le nomination alla 67esima edizione dei David di Donatello che verranno assegnati in martedì 3 maggio l'attore Castelvetranese Fabrizio Ferracane è protagonista in ben 3 dei film candidati nelle varie categorie e in Lizza per miglior attore non protagonista Ai David nella categoria miglior attore non protagonista Ferracane concorre per il film Ariaferma insieme a Valerio Mastrandrea Tony Servillo Pietro Castellitto ed Edoardo Scarpetta Ariaferma è in concorso anche come miglior film migliore sceneggiatura originale e per la migliore regia ma anche altri due film interpretati da Ferracane sono in gara in altre categorie L'Arminuta e La Terra dei Figli davvero una bella soddisfazione per uno degli artisti più interessanti della nuova generazione la cerimonia della consegna delle statuette si svolgerà negli studi di Cinecittà a Carlo Conti per la settima volta verrà affidata la conduzione della Kermess e questa volta al suo fianco ci sarà Drusilla Foer la serata verrà trasmessa in diretta su Rai 1 i film che hanno ottenuto più candidature sono E' stata la mano di Dio e Freaks Out con 16 a seguire Qui Rido Io con 14 nomination mentre Aria Ferma di Leonardo di Costanzo e Diabolik ne hanno ricevute 11 ma sorprendono anche le 6 candidature per un documentario Ennio la straordinaria sinfonia per immagini su Ennio Morricone di Giuseppe Tornatore Apriamo adesso la pagina sportiva ottimi risultati tecnici per gli atleti della società che hanno partecipato alla seconda prova del Grand Prix Mezzo Maratone Sicilia e Sant'Agata di Militello che ha visto l'ottima prestazione di Andrea Scavone e quella di Pietro Costantino grandi risultati anche nel fronte trapanese alla Vivi Cittadierice dove Luciano Mucari e Andrea Bonacasa hanno guadagnato il secondo posto di categoria Salvatore Ingargiola il terzo posto mentre a seguire anche Alessandro Serra Giuseppe Ingargiola e Pietro Di Vita oltre 18.000 invece gli iscritti alla Telepass Milano Marathon dove sono stati 6 gli atleti del team a tagliare il traguardo da Ancora Sport nel prossimo weekend 9 e 10 aprile a Monza si terrà il campionato italiano della Federazione Italiana Karate dove saranno presenti gli atleti della Bushido Karate Mazzara Ignazio Margiotta Vito Margiotta e Vincenzo Cristaldi in particolare gli ultimi due con un eventuale podio potrebbero giocarsi un posto nella squadra nazionale in quanto alla vigilia di quest'ultimo evento che chiude gli impegni nazionali della stagione si trovano fra le prime tre posizioni della classifica degli azzurrabili e come abbiamo anticipato ieri il martedì ci sarà l'appuntamento con il calcio femminile purtroppo il CF Marsala cede 2 a 1 al Monreale e si ferma ai quarti di finale playoff di eccellenza così la squadra dice addio ai sogni di promozione dopo una partita condotta a testa alta ascoltiamo coach Valeria Anteri e vediamo le immagini della gara Ministro Valeria Anteri appena terminata la gara qui al buoncorre di Palermo fra Monreale e Marsala il Monreale si è in posto 2 a 1 va avanti e andrà a sfidare il Camaro a Messina domenica prossima in sei finale il Marsala purtroppo finisce qui la propria stagione si ferma ai quarti di finale alla corsa promozione delle azzurre dicevamo a microfoni spenti che nel calcio non sempre vince chi gioca meglio ma vince chi è più cinico oggi il Monreale due tiri in porta due gole il Marsala soprattutto nella ripresa tanto volume di gioco tanto gioco su un fondo campo oggettivamente disgraziato dove non si può giocare a calcio è arrivato soltanto un gol in apertura di tempo con termine poi Marsala ha fatto tanto ma non ha prodotto praticamente palle gole sì devo dire che sì il campo disgraziato quello che vogliamo però ripeto come per noi per loro non sto certo loro magari fanno qualche partita in più qualche allenamento in più qui rispetto a noi che si è abitato a giocare sul velluto ci faccio io i miei tempi tutti i campi erano così e nessuno comunque sia si lamentava o si appigliava a queste cose è vero che vedere un calcio giocato da queste due squadre su un campo diverso l'avevo detto la settimana scorsa sarebbe stato tutta un'altra cosa perché sia il Monreale che il Marsala hanno comunque un bagaglio tecnico notevole è vero che comunque oggi il Marsala ha dato qualcosa in più rispetto al Monreale sul piano del gioco parlo io e sicuramente è stato meno concreto perché purtroppo abbiamo avuto le nostre occasioni ma una che comunque vi voglio rivedere un salvataggio sulla linea comunque loro continuano a dire ragazze che era umani ma ripeto ormai è passato la partita era questa noi abbiamo sempre rispetto delle avversarie non recriminiamo nulla da questo punto di vista sono state più brave sono state più ciniche più concrete ecco di noi questo è il calcio non riesce a uscire bene il Monreale da questa situazione difensiva allora il Marsala recupera la palla e c'è il tiro in porta ci è sembrata Maria Cristina Termine in due tempi la palla dietro Modica con i piedi Termine si inserisce calcia e il pallone che si spegna un metro dal palo lontano pallone che si pioverà molto probabilmente nel regore così attenzione a questo pallone sul secondo panno dove è liberissima di colpire per il gol del vantaggio la numero 8 Milena Ravolgi segnaliamo il gol del Monreale al minuto 8 Ravolgi di Tessa per l'1-0 per il Monreale profondo Caravello Marsala recupera palla Samantha Alcamo di prima verso Termine Termine stop si presenta davanti al portiere peccato lungo il controllo di Brava Modica varia una pisciotta sporca dalla barriera di Tessa Ambroggi sulla seconda palla Cammarata che calcia al volo di controbalzo pallone che si finisce fuori Todaro si gira bene calcia sul primo palo pallone facile per Scozzari Schillaci in verticale attenzione Todaro davanti alla porta Todaro viene tamponata Clemente benissimo vediamo se Scozzari salva anche il calcio d'angolo così è rimessa al laterale calcia alla fine del Monreale ma parà tranquilla Scozzari Schillaci si intestardisce un po' poi trova una compagna che calcia tiro parato facile da Scozzari Schillaci bellissimo questo passaggio di Schillaci che trova il passaggio vincente per Nicole Caravello 2-0 per il Monreale adesso è mezzanotte per le azzurre schialarbi trova Alcamo il pallone che sfila via tranquillo alla destra di Modica 13-05 si riparte con la seconda frazione con le stesse 22 in campo di Stefano sul destro pallone dentro e c'è il 2-1 subito un'apertura di ripresa Baria Cristina termine minuto 48 Morelle 2 Marsala 1 Dai azzurre c'è ancora tutto il tempo Camarata Alcamo si gira e calcia pallone sporco via pallone dentro di testa termine attenzione termine di testa verso la porta Pisciotta attenzione davanti alla linea il pallone rimbalza ancora corto per Martino Ambroggi dentro Alcamo di prima termine Alcamo il pallone si spegne sul fondo Di Stefano Camarata peccato non ha un controllo felice Di Stefano calcia verso la porta Alcamo sulla ribattuta pallone fuori Camarata lancia una delle due frecce azzurre arriva però il portiere finisce qui il Montreale batte 2 a 1 il Marsala e si qualifica per la semifinale playoff andrà a giocare domenica prossima Messina contro il Camaro il Marsala invece finisce qui il proprio campionato termina qui la prima stagione chiudiamo con gli scacchi a Marsala presso la sede dell'Sd Lili Betana Scacchi domenica scorsa si sono concluse le partite del campionato provinciale valido come gli ottavi di finale dell'ottantunesimo campionato italiano assoluto tra i 23 giocatori provenienti da Marsala tra Panierici e Mazzara del Vallo erano presenti anche due ospiti provenienti da Palermo e Catania la vittoria è andata l'Illibetana Antonino Meo che su 5 turni di gioca ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio precedendo sul podio Francesco Miosi della Centro Scacchi Palermo e Pietro Mattarella dello Scacco Club Mazzara ed era questa l'ultima notizia del nostro TG io vi lascio con la programmazione di Telehot e vi do appuntamento alla prossima edizione